La nazionale italiana, alla fine non so esattamente chi gioca, non ho visto la lista, ma io credo sempre forte, qualcuno conosco bene perché giocano qui da Roma, ma è veramente un momento in cui noi, la squadra americana, apprezziamo molto avere questa opportunità di giocare contro una squadra molto grande, si resta, si impara a giocare meglio e uno di questi giorni chissà che arriverà con la Stati Uniti Italia, ma può darsi stasera, chissà.